Quindicesima di ritorno al Comunale, una Sanremese in piena emergenza, reduce dalla sconfitta di Varese, ospita l'Alba in uno scontro diretto da vincere a tutti i costi per evitare di venire risucchiati nelle sabbie mobili della classifica. Oltre agli infortunati, Maglione e Gatto, Mister Gori non può contare sugli indisponibili Bechini, Biagini e Cesari, con salto in panchina solo per stare vicino alla squadra. Il tecnico schiera la rotonda in difesa e si affida alla coppia d'attacco Ibe-Vassallo, entrambi supportati da Gagliardi. Prima della gara vengono premiati in campo le leve del settore giovanile matuziano, protagonista nei giorni scorsi in alcuni tornei nazionali e internazionali. La Sanremese parte forte e passa subito in vantaggio dopo appena due minuti. Fa tutto Vassallo, che sorprende Bergonzi con un tiro a giro dal limite che si insacca sotto la traversa. Mentre l'attaccante viene sommerso dall'abbraccio dei compagni, il comunale esplode in un ruggito liberatorio. Sanremese-Alba, 1-0. I ospiti replicano al quinto con una punizione di Marin. Boli para senza problemi. Al tredicesimo Gagliardi impegna severamente Bergonzi direttamente dalla bandierina. Il portiere smanaccia con un grande intervento e salva la sua porta. Al diciannovesimo Pietrelli in aria si coordina in acrobazia ma mette sul fondo. Al ventiquattresimo tiro di Janken dal limite. Para Boli. La Sanremese trova il raddoppio al ventinovesimo. Sugli sviluppi di una punizione battuta da Gagliardi dopo una respinta della difesa azzurra, in corvaia con un grandestro batte l'incolpevole Bergonzi e trova il primo centro davanti ai suoi tifosi. Sanremese-Alba, 2-0. La gara si riapre al quarantesimo. Angolo di Galasso, stacco imperioso di Scotto, palla in rete. Si va al riposo con la Sanremese in vantaggio per 2-1. Nella ripresa l'Alba va subito vicino al pareggio dopo appena un minuto. Prima Boli è provvidenziale con un doppio intervento sul Carnovale-Galasso. Poi sugli sviluppi del corner Scotto colpisce la traversa ma la Sanremese protesta per una carica commessa dallo stesso difensore azzurro. Al quarantanovesimo lancio delizioso di Gagliardi, sponda di Nenci, tocco vincente di Ibe, ma l'arbitro schifone di Taranto annulla la mattatura per un sospetto fuorigioco sul segnalazione del guardalini. Al sessantaduesimo punizione dal limite di Galasso, Boli respinge. Al sessantaquattresimo Scotto con un gran tiro dal limite colpisce il secondo montante di giornata. Mani tra i capelli per il numero 5 dell'Alba. Al sessantottesimo primo cambio nella Sanremese. Entra Conti, esce Vassal. Al settantaduesimo cross di Marin, testa di Marangoni, palla sul fondo. Al settantadresimo l'Orchipanize chiede il cambio per un colpo subito in precedenza. Al suo posto entra Sant'Anocito. Al settantaseisimo punizione di Marin, testa di Giraudo. Il nuovo entrato al Visetti per poco non ci arriva, palla sul fondo. All'ottantasettesimo punizione da lontano di Galasso, Boli si accartoccia e blocca a terra. Al novantesimo punizione di Gagliardi, palla alta sopra la traversa. Al novantunesimo Giraudo in aria, cicca la sfera e calcia debolmente verso la porta. Boli c'è. All'ultimo secondo del match Sant'Anocito ha la palla buona per chiudere la contesa, ma il centrocampista non riesce a calciare come dovrebbe. Finisce 2-1 per la Sanremese, che con grande sofferenza porta a casa tre punti fondamentali in ottica salvezza. Domenica prossima i matuziani saranno impegnati in trasferta a Genova sul campo del Ligorno.